Allora, buongiorno a tutti, prego io da una sorta di moderatore, di presentatore, come coordinatore insieme all'assessore Mattino della lista. Benvenuti, a me tocca soltanto illustrare in maniera estremamente sintetica le ragioni della presenza della lista dei regionali, ragioni che risiedono non già nella necessità di eleggere consiglieri regionali, ma nella necessità di far avanzare le istanze del territorio da chi il territorio lo vive, lo rappresenta e lo conosce. Per questa ragione che nelle singole circostituzioni provinciali sono stati individuati con attività di scouting, se così si copie, lasciatevi lasciare il termine, potrebbe essere il primo luogo dell'assessore Marchillo, le migliori eccellenze possibili. E' per questo che in questo territorio la nostra lista ha l'onore di essere rappresentata da Floriano Panze e da Giulia Abate, che a nostro avviso sono appunto le migliori eccellenze di questo territorio e che sapranno contribuire al governo regionale in maniera determinante, avanzando istanze, non solo fine a se stessi, ma avanzando istanze già prospettando soluzioni. E' tempo di pensare di riunire le aree interne a quelle costiere, è tempo di pensare ad un'unica area economica speciale, è tempo di pensare a incentivi di detassazione e incentivi di investimento ulteriori, è tempo di coniugare turismo ad attività produttive, è tempo di far sì che il governo del territorio si è affidato a persone capaci. Cedo la parola a Floriano Panze, il nostro rappresentante sul territorio. Buongiorno a tutti. Vivere questo momento, in questo spazio, che negli anni passati ho frequentato molto, è sempre in maniera abbastanza diventicativa, perché la provincia di Benevento credo che non abbia mai scordato, che il cuore del sannio, e ai sanniti questa molla risulta molto cara, perché crede, credo che non ci possa esistere, non possa esistere nessuna prospettiva se alle spalle non ci sta una convinzione ferma di quello che si è stato e si è. Quando Antonio Marchiello mi ha detto che stava preparando questa lista, dato il rapporto umano che io ho con questa persona, da 6-7 lustri, chiamiamoli così, così il conto diventa più complicato, non potevo che dare una sola risposta, ma nel frattempo ci è inserito anche il Presidente della Regione, che in uno degli ultimi incontri che ha avuto con me, sostanzialmente col suo modo ha detto «bella cosa, abbiamo portato la provincia di Benevento e il sannio alla notorietà nazionale, col binomio sannio e falanchina, adesso ci fermiamo». Ovviamente è stata una molle, una leva non di poco conto, perché credo che il sannio in questo modo abbia sperimentato un'occasione più unica che rara, quella di essere per un anno intero la provincia più declamata, più citata d'Italia. 2.000 articoli, 150 uscite sulle televisioni, anche nazionali, e sulla stampa estera credo che è un'occasione, non dico irripetibile, chiamiamola un momento sul quale bisogna costruire affinché questo avvenga sempre. Se vogliamo vendere il nostro territorio ne abbiamo necessità di essere conosciuti e di essere conosciuti in maniera reale, non per quello che vorremmo essere, ma per quello che siamo, per le doti e le potenzialità di questo territorio. Tornando alla ragione di una candidatura, la mia esperienza di sindaco mi ha fatto toccare con mano un problema che ciascuno di voi, direttamente o indirettamente, verifica ogni giorno. Il problema di tanti giovani che laurea a volte anche la nostra università è che hanno una sola possibilità, l'emigrazione. La provincia di Benevento in soli dieci anni ha perduto 14.000 posti di lavoro, non ha conservato neppure i posti di lavoro che teneva. Quindi io dicevo anche ieri sera in un altro incontro, quanto incrocio gli sguardi delle persone, ma di che cosa vogliamo parlare? Negli sguardi delle persone, quasi sempre, si vede la tristezza di avere un fratello, un figlio, un nipote, un amico col quale sarebbe stato gradevolissimo passare una vita e non ci sono più. Sono a centinaia di chilometri, se non a migliaia di chilometri. Ma di che cosa vogliamo parlare se non mettere a centro questo argomento e trovare il modo per fare che cosa? Per creare lavoro. E io faccio un piccolo esempio, o di riservo durante la campagna elettorale, di ampliarlo ancora di più. È un progettino che si può chiamare in maniera molto semplice, riavvitare, tornare ad abitare. Che cosa? Le migliaia e migliaia di divani, di case, a volte bellissime, delle nostre città, compresa la città di Benevento. Ma come? Ormai è una discussione, tutte le arci star parlano di questo. Far ritornare chi se n'è andato, far venire chi a trove vive male. E quindi tutto lo smart working del quale si parla, no? Ma noi dobbiamo parlare anche di altro. Quindi oltre a dire che ci servono le infrastrutture materiali e immateriali, che sono l'addendo di un problema. Non sono il problema, sono il pezzo di un puzzle che deve esserci per fare la vita. Allora, l'esempio che io portavo, in sei anni la mia comunità ha visto 250 stranieri comprare casa, aggiustarla, venisse ad abitare, vivono più da noi a guardia che altro. Ovviamente tutte le persone col computer. Voleva la banda larga, finora gli abbiamo dato internet free. Adesso si può servire tranquillamente di una banda ultra larga, che deve essere stessa prima di tutto alla città di Benevento per il vero. E poi a tutta la provincia di Benevento. Senza questa infrastruttura, ogni progetto di creare lavoro, scordiamoci. E quindi questo progetto con l'aiuto della regione, che potrebbe darci una mano, agevolare gli acquisti, agevolare le ristrutturazioni, fornire internet free a tutti coloro che vogliono venire da noi, si potrebbe fare un progetto bellissimo. Ci potremmo candidare al mondo e dire guardate, noi siamo la provincia di Benevento, noi siamo la città di Benevento, siamo sannitica, romana, medioevale, abbiamo prodotti eccezionali. Ma sapete che gli americani gli hanno fatto a guardia? Hanno comprato tutte le case che prospettano sui vigneti, che hanno le terrazze. La sera a mezzanotte, quando noi andiamo a dormire, loro godono le vie del centro storico, godono. E lavorano. C'è una signora, intervistata l'altro ieri, che fa l'impiegata di banca, Houston, la fa da guardia. Noi dobbiamo essere su questo tema, ci dobbiamo essere prima degli altri e la regione può fare molto. L'altra questione strategica, sempre guardando nella faccia gli concittadini, voi, è la via della speranza sanitaria. Io che conosco tanti di voi. Ma quanti, quanti, ahimè, per questioni sulla rete oncologica o sulla rete cardiologica, quanti di voi hanno fatto chilometri e chilometri di speranza. Ma perché il sangio deve essere un territorio di serie B rispetto alle prestazioni sanitarie? Perché? Allora, la mia riflessione, anche per la modesta esperienza sanitaria che abbiamo fatto insieme, io dico sempre parasanitaria, la miglia. Il dottore Marchiero, tra l'altro, l'ho conosciuto da avvocato e lo ritrovo al sensore medico, tra l'altro. Bravo. Allora, l'esperienza sulla quale torniamo, in campo oncologico e in campo cardiologico. Il campo basso tiene una cardiologia, a Delivoli tiene due di cardiologia. L'eccellenza dei territori, dal punto di vista della sanità, e saluto anche gli operatori della sanità presenti. La fanno le alte specializzazioni. Quelle fanno, diciamo, da soggetto trainante per tutto il resto di quello che sta intorno. Oggi noi abbiamo una sanità che rispetto alla qualità del materiale e alla quantità del personale a disposizione ha una prestazione eccezionale. Gli operatori attualmente sanitari della provincia di Benevene avrebbero diritto a un monumento. Il fatto sta, però, è che non si può assordere a tutta la qualità della prestazione richiesta in campo oncologico e in campo cardiologico. In campo cardiologico dico, ma vogliamo deciderci ad attivare la superutica dell'ospedale di Benevento. Non dico la cardiotirurgia che ha bisogno anche di provvedimenti normativi affinché questo possa avvenire. Ma è un'ambizione. Nella vita della politica bisogna avere una visione per lavorare. Altrimenti tutto questo tempo non sarebbe giustificato. Lo potremmo dedicare altrove. Quindi una visione di un'alta specializzazione in provincia di Benevene che non toglierebbe niente a nessuno perché a Benevene ne tiene due. E campo basso che alla popolazione inferiore a Benevene la tiene. Ora, sognare e mentre si sogna comunque costruire qualcosa di concreto verso quel sogno. Dico, sulla rete oncologica, che deve come terminare nella cura, vedi il parasanitario qualcosa l'ha imparato, come terminare la medicina nucleare è qualcosa sulla quale dobbiamo batterci. Noi ce la dobbiamo far finanziare. La medicina nucleare. mi avvio a conclusione anche nel dirvi che per intanto, mentre abbiamo questi sogni che non sono sogni, sono cose realizzabili, perché a pochi chilometri da noi le hanno fatte queste cose, cerchiamo di potenziare gli organici. Dobbiamo togliere dalla difficoltà nella quale è l'ase dell'ospedale la difficoltà delle prestazioni. La carenza di organico notevole, su questo credo ci intratterrai tra un momento l'assessore, perché io so del blocco che c'è stata, dei limiti della sanità, dei concorsi che sono previsti, eccetera. Voglio dire, sono una risposta possibile nell'immediato, quello di equipararci almeno a livello di prestazioni possibili, chiamiamolo così. Però noi dobbiamo avere un sogno. E il sogno del sottoscritto, insieme alla mia collega Abate, che ho tanto pregato affinché stesse in vista con me, perché mi è un grande onore avere quel cognome a fianco al mio. L'obiettivo è quello di fare in modo che finalmente, non in maniera contestativa, ma nel rispetto della dignità che merita un territorio che è pari al 25% della regione campagna. È una risposta alle stesse problematiche delle fasce costiere. Ora, questo territorio finalmente debba essere rappresentato. È difficile che ce la facciamo a essere eletti tutte e due. Se sono eletto io, personalmente, io dovrei essere cavalieri, mi auguro la collega. Voglio dire, mi trovo costretto ad essere nella cavalleria a scendere un poco più terra terra. Quindi se è sottoscritto avrà il consenso dei benedentani e dei saniti, le ragioni del sanio saranno finalmente in regione campagna. Buongiorno a tutti. Intanto avete capito una cosa. Che questa lista è fatta di persone che hanno veramente il sagno scolpito nel cuore e che se ci sarà dato l'onore, sia Floriano il Presidente, per me rimane sempre il Presidente o a me, le ragioni di questo sagno saranno non urlate, ma rivendicate con estrema forza. Forse questo è mancato in questi cinque anni, una rappresentanza istituzionale che battesse un po' i puni sul tavolo, ma lo facesse con il garbo che ci è proprio. Anch'io sono contenta. Innanzitutto voglio tranquillizzare chi ci ascolta anche i giornalisti che sono venuti qui, numerosi. In realtà questa è una presentazione della lista Affare Democratico, ma evidentemente voi vedete solo i manifesti di Floriano. In realtà io ho fatto una scelta quest'anno, una scelta di non produrre manifesti. Sono stata impegnata nella campagna elettorale più volte e ho sempre anch'io contribuito ad imbrattare muri, talvolta beccando multe, perché ti riesce difficile da candidato controllare i sistemi di attacchinaggio e prendendomi sbevole in faccia dai soliti ben pensanti che dicono ma perché non controlli? No, quest'anno ho deciso una cosa. Ho deciso di non affidare il mio viso ai muri e ai manifesti. Immagino che avendo avuto l'onore di essere impegnata più volte su questo territorio, qualcuno possa ricordare il mio volto. E poi guardate, mi veniva in mente una cosa, prima lo dicevo a tutti quanti i giornalisti che si sono compiaciuti, non compiaciuti io, mi sono compiaciuta nell'essere intervistata. Siamo troppi, quest'anno siamo un po' troppi, Assessore. Noi siamo un territorio veramente molto piccolo. Mi ricordo che Churchill diceva che i Balcani producono più storia di quanto possano gerirne. Più o meno la stessa cosa sta capitando con noi candidati. Noi siamo veramente troppi e siamo anche con un numero esiguo. 50 candidati è difficile, è veramente difficile. E mi mettono i panni non solo di noi candidati che ci troviamo a fare una campagna elettorale tallonati come siamo da un Covid che è ritornato a mostrare purtroppo i suoi muscoli, ma siamo talmente tanti e ci troviamo con gli elettori dei quali da tutta la mia solidarietà, che sono bombardati da tutte le telefonate di 50 candidati. Quindi quest'anno ho detto, insomma, il mio viso qualcuno lo ricorderà, non eviterò di imbrattare muri. Per questo non notate il mio manifesto. Sebbene debba resistere con forza, lo farò fino alla fine. A tutti i miei amici che dicono, no, devi fare i manifesti, devi fare i manifesti. Insomma, quest'anno è un po' una campagna elettorale completamente differente. Ma vediamo anche le ragioni dell'impegno. Io ringrazio Giosi, ringrazio soprattutto l'assessore. Io non ho una conoscenza così lunga con l'assessore come invece ha chiaramente il Presidente Panza. Una conoscenza che però si è maturata ed approfondita sui temi, sui temi, in questi cinque anni, anzi negli ultimi tre anni in cui lei ha rivestito la carica, tu hai rivestito la carica di assessore. E in realtà io ho provato a disturbarlo per cose molto importanti, importantissime innanzitutto per il nostro territorio. Devo dire che con l'assessorato dell'attività produttiva dapprima si è lavorato bene perché ci è riuscito in un'operazione anche difficile e compressa, quella dell'inserimento del mio paese, della mia città Irola, nell'ambito delle aree di crisi complessa. Ma con l'assessore abbiamo fatto un lavoro straordinario che chiaramente ha sorbito una battuta del resto, uno stop, per le ragioni evidentemente legate al Covid, per quanto riguarda l'estensione dell'area ZES, la modifica in qualche maniera delle zone economiche speciali. Il Presidente ha affrontato in qualche maniera nel suo intervento un argomento. Però io prima di tutto vorrei raccontarvi quello che ho un po' detto anche ai giornalisti. Noi ci troveremo a che fare con una storia del tutto nuova. Il Covid ha cambiato completamente la nostra vita, la percezione della nostra esistenza e noi da qui dobbiamo ripartire perché il Covid, ragazzi, scusate ragazzi e signori giornalisti, può modificare senz'altro in meglio le nostre prospettive di crescita e di sviluppo. Già al nord si sta a sistemi in questi giorni o in questi ultimi mesi ad un progressivo non svuotamento non si può parlare, ma un progressiva fuga tra virgolette di cittadini che ritengono la città o la grande metropoli poco ospitale. Ma perché ciò accada però, carissimo Antonio, occorre che questo territorio diventi attrattivo? Ma diventi attrattivo non nel senso che occorre trovare dei parchi giochi o dei lunaparca, diventi attrattivo nei termini di servizi essenziali offerti ai cittadini. Floriano, il Presidente ha tratteggiato uno degli aspetti che è quello chiaramente della banda ultralarga, tra l'altro il progetto della banda ultralarga è proprio dell'assessorato, il progetto Bull e io ieri ho fatto anche un po' cenno in una piccola diretta perché chiaramente questi sono gli strumenti a disposizione di ogni candidata e non potendo incontrarci, vi danno comizi in qualche maniera, però nella diretta ho anche affrontato questo piccolo argomento. Il progetto Bull della Regione Campania, che a questo punto io, anche io ne rivendico in qualche maniera, non l'appartenenza assolutamente ma l'aver portato fortemente nel mio comune, è un progetto che mira soprattutto a coprire quelle che sono definite le aree bianche, quelle che gli operatori telefonici considerano poco remunerative e noi ne abbiamo parecchie di aree bianche, però in questo, caro Presidente, c'è anche la stoltezza di noi, mi ci metto io in primis da amministratrice perché fatichiamo certe volte a star dietro anche a progetti di così ampio respiro che sono destinati a modificare.